C'è da facciare solidarietà a una comunità e poi, al di là della solidarietà, aiutare a ricostruire soldi. Il Consiglio dei Ministri già questa settimana per evitare le popolazioni, per la Cina, Lazio, dalla Sicilia al Veneto, abbiamo già trovato 200-250 milioni di euro. Io vedo che qua c'è gente che non aspetta niente, nessuno, con estrema dignità, ha già cominciato a lavorare, a pulire, a scavare, a sistemare. Però il Governo c'è e lo Stato deve fare la sua parte. Conto di tornare presto, quando le attività saranno ripartite, gli alberi ripiantumati e i tetti sistemati. Però mi sembrava doveroso, poi soprattutto in un giorno come quello del 4 novembre, magari porre una corona di fiori in meno e incontrare un po' di gente vera in più. Bocca al lupo. Si finisce una proposta di governo e ci sono frizioni continue con 5 Stelle. A leggere i giornali, sì. A lavorare con loro. Allora, c'è uno.